Sarà inaugurata a metà settembre la nuova scuola dell'infanzia di Ponzano in Viale Montegrappa. L'edificio, interamente costruito in legno, ospiterà i bambini delle tre classi della scuola Maurizia Tradì di Viale Borgo Valsugana. E' questo il primo passaggio in tema di edilizia scolastica che vedrà in prima linea il neossessore comunale Ilaria Santi, che sta lavorando su diversi fronti, dagli interventi sul risparmio energetico al miglioramento sismico delle strutture scolastiche, fino all'ampliamento degli edifici. Mi premono tutti, ma sicuramente mi preme l'arrivo delle tre aule aggiuntive dalla Chiesa, che ha oggettivamente bisogno di respiro all'interno del complesso scolastico, ampliamento della scuola primaria di Pacciana, per intendersi la zona di Villa Fiorita, ampliamento della scuola di Casale con la biblioteca polivalente e l'ampliamento della scuola primaria di Cafaggio. Altra delega di Santi, quella sulla pubblica istruzione. Se da un lato l'assessore intende contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico ancora troppo evidente sul territorio, puntando sul progetto iCare, dall'altro c'è la volontà da parte dell'assessorato di valorizzare l'offerta formativa tramite il PEZ, il piano educativo zonale di origine regionale, che consente di finanziare attività integrative, oltre a quella strettamente didattica. Orti scolastici e laboratori musicali sono solo alcune delle possibilità. E pensando a percorsi innovativi, come non fare riferimento alla sperimentazione 0336, che prevede uno scambio alla pari tra bimbi del nido e della scuola dell'infanzia comunali. Una proposta educativa che secondo me è una proposta educativa valida per i bambini, perché alla fine è quasi un tutoraggio tra piccoli e piccolissimi. Mi spiego meglio, i bambini a volte dello 0336 e dei nidi hanno dei laboratori e delle attività e iniziative insieme a quelli un po' più grandi che in qualche modo li fanno da tutor, li fanno da piccoli insegnanti. Quindi secondo me è importante. In più è prevista che nel passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia almeno un insegnante li segua. Per chiudere, le deleghe alle pari opportunità e memoria. Su questo ultimo punto Santi punta a promuovere percorsi di conoscenza della storia della città all'interno delle scuole.